In apertura della seconda seduta del Consiglio regionale, il Presidente della Regione Toscana Eugenio Gianni ha annunciato il nome dell'ottavo assessore. Si tratta di Stefania Saccardi di Italia Viva, che nella passata legislatura è stata alla guida dell'assessorato alla salute. Saccardi sarà anche nominata Vicepresidente della Regione. Le deleghe che saranno assegnate sia a lei che agli altri membri della Giunta saranno rese note fra 24 ore, con l'unica eccezione proprio di quella alla sanità. A fine seduta Gianni ha dichiarato in aula che sarà affidata a Simone Bezzini del PD. La nuova giunta regionale toscana è quindi formata da sei esponenti del Partito Democratico. Alessandra Nardini, Monia Monni, Leonardo Marras, Simone Bezzini, Stefano Cioffo e Stefano Baccelli. Da Stefania Saccardi di Italia Viva e da Serena Spinelli di Sinistra Civica Ecologista. La lista che si è presentata alle elezioni in appoggio a Gianni e che pur non riuscendo per pochi voti ad eleggere un consigliere regionale sarà rappresentata nell'esecutivo.